Oggi parliamo della The Palma Film Collection, eccola qua, guardate come sono bravo, sembro una valletta, sembro una valle, non una valletta, una valle intera. The Palma Film Collection è la seconda, la due, con dentro le due sorelle, complesso di colpa e due cortometraggi che si chiamano Watton's Wake, poi in realtà l'altro non è proprio un cortometraggio, è un documentario abbastanza breve, quindi l'avranno definito corto per questa ragione, perché è corto. E poi all'interno c'è anche The Palma, documentario di Noah Baumbach e Jake Patron, ma non ne parlerò, perché ne ho già parlato nella The Palma Collection 1, e c'è anche Murder a la Mod, che è un film sperimentale di Brian The Palma del 67, di cui non parlerò, perché ne ho già parlato nella recensione della Brian The Palma 1, che trovate su YouTube. I due cortometraggi non possono essere spoilerati, perché, cioè nel senso, uno è un documentario e un altro è un film sperimentale che non ha proprio una trama, è qualcosa di molto particolare, quindi non ha spoiler, semplicemente ve lo descrivo e ve lo vedete. I due film ne parlerò all'inizio cercando di trattenermi, poi a un certo punto quando vedrò che devo per forza dire qualcosa, che è spoiler, allora vi avviserò. Allora vi faccio vedere velocemente l'edizione, anche se l'avevate vista nell'unboxing, è fatta a QC, a libro, fondamentalmente ha dentro questi due film, poi il documentario e Murder a la Mod sono ripetizioni che ci sono anche nell'altra edizione. Questi sono i tre blu-ray, credo ci sia anche in versione DVD che costa meno, dentro ci sono due cartoline, una di Obsession e una di Sisters. Poi c'è un libertino, con delle foto. Allora è inutile dire che questo, questo cofanetto, insieme all'altro, è veramente uno dei più belli usciti della Midnight, ma più per la qualità dei film che per i contenuti, nel senso, ci sono tanti contenuti, ma sono... sono una buona quantità, comunque io li apprezzo soprattutto per la qualità dei film, perché sono veramente, sia questo che l'altro cofanetto, sono veramente tutti film eccezionali, eccezionali. Parliamo delle due sorelle di Brian De Palma, c'è una parte iniziale che ricorda tantissimo Vestito per Uccidere, proprio la dinamica è la stessa, e già questo è un pochino spoiler per chi ha visto Vestito per Uccidere. Cosa succede? In realtà ricorda Vestito per Uccidere, ma ricorda anche un grandissimo film, che ha subito un evento drammatico, colpo di scena, che è Psycho. Non a caso, Psycho, perché sappiamo tutti benissimo che Brian De Palma è obsessed, cioè non è che è proprio obsessed, cioè è uno che sta lì, guarda e impara il cinema di Hitchcock, non solo, perché ne abbiamo parlato anche di come poi prenda anche da Dario Argento e altri. E quindi in realtà la struttura di questo film, Le Due Sorelle, alla fine ricalca quel colpo di scena che c'è in Psycho, e quindi anche quello di Vestito per Uccidere, che non so se l'avete visto, vede appunto questa scena di accoltellamento nell'ascensore abbastanza simile poi tra l'altro a Psycho. Anche qua si parla di coltelli e di accoltellamenti, ma quello si vede già nel trailer. Questa è una storia che praticamente è stata scritta tramite un articolo di giornale, cioè storie di gemelli, siamesi. Da qua in poi sarà leggermente spoiler per ciò che concerne la prima parte del film, dove appunto c'è un evento. Le Due Sorelle appunto gioca, è un thriller, che vede appunto protagoniste due sorelle, due sorelle che capiamo anche poi dalla locandina. Avere un legame molto forte, sono gemelle, ma sono forse ancora più unite delle gemelle per come lo sono di solito. Il film comincia con una trasmissione televisiva dove i due protagonisti sono, sembra quasi una sorta di candid camera. Ed è una trasmissione televisiva molto wireistica, perché la gag, comunque l'intento di questa trasmissione, è vedere come reagisce una persona realmente se si trova a poter spiare una donna mentre si sta cambiando. Quindi se questo prescelto dalla trasmissione deciderà di essere galantuomo, tra virgolette, e voltarsi o fare altro, piuttosto che invece rimanere e godersi lo spettacolo all'insaputa della ragazza. Ovviamente la ragazza però è un'attrice, è come se fosse una sorta di candid camera. Vediamo se quest'uomo si comporta in modo corretto o no. Quindi questo evento della televisione, cioè il programma televisivo, già ci dice un sacco di cose di Brian De Palma. Uno ci dice, è già un... introduce tantissimo il concetto di wireismo, di guardare, di spiare, di guardare dal buco, di guardare dalla finestra, di guardare senza essere visti, che è anche il concetto base della trasmissione. Il protagonista, la vittima di questa trasmissione è un ragazzo nero che alla fine farà la scelta migliore. E questo ci darà anche degli elementi, ci darà degli elementi emotivi importanti per cosa accade dopo. Perché il ragazzo ci starà simpatico, perché alla fine farà una scelta eticamente pulita. Quindi non farà una scelta brutta. E quindi noi attribuiremo già dei valori a questo ragazzo qua e uno schieramento verso il lato buono dell'umanità. In seguito, il ragazzo, finita la trasmissione, che è un espediente alla fine per introdurre il film per i cavoli suoi, incontrerà e farà la conoscenza di una delle due sorelle, un personaggio abbastanza supera le righe, molto, insomma, simpatica, ma comunque che sembra essere preoccupata, avere qualcosa che non va, avere dei misteri. Comunque i due inizieranno a piacersi, usciranno insieme. E poi salterà fuori un ex marito che sembra quasi stalkerarla, che la segue. A un certo punto c'è il cosiddetto evento che manda in pappa tutto. Un po' come accade in Psycho, no? Noi crediamo, e per un bel pezzo di film in Psycho, noi crediamo che la ragazza sia la protagonista. Invece no, bam, la ragazza finisce affettata nella doccia, scena famosissima. Ecco, i due staranno insieme e lui scoprirà, dormiranno insieme, insomma, faranno quello che devono fare, lui scoprirà, no, non dormiranno insieme, no, non dormono insieme, però comunque diventano piuttosto intimi. Non mi ricordo se vanno oltre, comunque diventano piuttosto intimi. E poi lui sentirà una conversazione tra le due sorelle e capirà appunto che di mezzo c'è anche una sorella che è un po' stressante, che rompe le scatole, eccetera. Qui è leggermente spoiler, anzi qui è spoiler sul colpo di scena che ci sarà all'inizio del film, perché il ragazzo uscirà per comprare una torta di compleanno alla sua nuova fidanzata e tornando avrà un incontro con l'altra sorella che spaventata lo prenderà a coltellate. Questa scena viene vista, viene vista dall'esterno, dal palazzo di fronte, e qui ci sono tutti i richiami a la finestra sul cortile e tutto il wireismo che già esiste in tante cose di Hitchcock e che piace tantissimo a Brian De Palma. E vediamo già una delle cose più fighe che riguardano la cinematografia di De Palma, cioè lo split screen e anche una tecnica molto interessante che vede praticamente la persona che vede l'omicidio, vede questa aggressione, dall'altra parte è una giornalista e quindi ci sarà il primo split screen dove da una parte vedremo la giornalista che guarda dall'altra diciamo il protagonista perire e da lì in poi partirà una nuova sequenza che vedrà la sorella, quella non pazza diciamo, quella normale che era neofidanzata di questo ragazzo nero cercare insieme all'ex marito di nascondere le prove perché è appunto per l'imminente potenziale arrivo della polizia. Dall'altra parte vedremo la giornalista chiamare la polizia e cercare appunto di incontrare la polizia di sotto e portarla nel palazzo. Quindi vedremo da una parte la scena in cui la giornalista cerca di, grazie le osi a pericento, cerca di portarli su e dall'altra i due che cercano di nascondere il crimine compiuto dall'altra sorella, la sorella mezza pazza e quindi avremo praticamente due film che corrono e che sono stati tra l'altro girati contemporaneamente cioè molte scene sono state girate effettivamente nello stesso momento perché noi vedremo appunto dalla finestra vedremo una cosa e poi vedremo anche il controcampo quindi con i walkie talkie, la sincronia delle troupe per far girare questa scena una cosa meravigliosa, questo già nei primi minuti del film una roba che non lo so, è evidente quanto sia divertente girarlo e vederlo questo cioè quanto questo cinema solo così, senza chissà quale CGI o stronzata varia cioè solo così, con questa cosa, già questo film schizza in alto proprio tra le cose più interessanti che si possono vedere al cinema questa è una cosa, poi dopo all'interno del film ci sono altre genialate inverosimili in queste due sequenze che sono contemporanee poi all'interno c'è questo personaggio, questo ex marito io, vabbè, non so spoilerarvi perché devo stare anche attento a cosa dico questo ex marito che è anche protagonista del film sperimentale Murder alla Moda è un attore pazzesco che non ha fatto tantissime cose ha già lavorato e ha lavorato appunto anche nel fantasma del palcoscenico con Del Palma è un attore con una fisicità strana, molto alto, magro si muove quasi come un attore del muto, quasi come un clown e all'interno di queste scene dove loro cercano di pulire la casa e nascondere il corpo tra l'altro nascosto in un posto incredibile cioè il corpo nascosto in un posto incredibile e l'idea di nascondere il cadavere in quel posto lì fece addirittura litigare De Palma col produttore che era convinto che fosse un'idea assurda e quindi mollò il film e dovettero trovare un altro produttore quindi in realtà poi quando la vedrete direte questo è un genio, cioè un genio anche del crimine potrebbe tranquillamente nascondere un cadavere in una casa in un batter d'occhio e poi lo vedrete comunque in queste scene di pulizia del reato ci sono anche delle scene comiche ed è interessante come in un film thriller comunque ci sia la volontà e non è la prima volta che accade anche di inserire quel pizzico di ironia per cui non lo so dell'ironia qua e là che renda anche il film proprio più fruibile voi sapete che anche vedendo l'altra recensione conoscendo De Palma sapete che lui è fissato con questo split screen addirittura poi lo evolve e lo rende uno strumento comunicativo in cui fa vedere più cose allo spettatore e c'è un significato importante dentro a questa scelta è un significato cioè è un ci sono degli scopi che sono quasi avanguardistici perché spesso il cinema vuole farti perdere il contatto con la realtà farti dimenticare che stai guardando un film questo atto cioè l'atto del creare uno split screen è un atto che fa l'esatto opposto e quindi inizialmente potrebbe essere preso da una persona che ha una concezione tradizionale del cinema come un errore cioè no perché fai qualcosa che toglie la sospensione dell'incredulità invece in realtà è proprio quella la cosa che vuole fare De Palma cioè rendere lo spettatore partecipe è attivo cosa vuol dire che se io ho splitto lo schermo e inserisco due scene importanti contemporaneamente lo spettatore è costretto a scegliere dove guardare e quindi ognuno di noi non guarderà mai nello stesso modo quella scena ognuno di noi farà delle scelte e magari guarderà ovviamente salteremo da una parte all'altra perché cercheremo di capire ma prediligeremo sempre una parte ed è una una cosa da una parte sembra un errore dall'altra letta in questa maniera è sicuramente qualcosa di avanguardistico perché non va un po' a togliere questo mito che la sospensione dell'incredulità sempre e comunque sia giusta in questo caso noi ci troviamo piacevolmente coinvolti in questo tipo di gioco quasi interattivo quindi è molto interessante poi lo rivedrete fatto in modi non che questo non sia sofisticato questo è molto sofisticato come come metodo però lo rivedrete fatto anche meglio in film più recenti dove la tecnica è migliorata è interessante perché il concetto di split screen cioè di di splittare in due qualcosa in questo film ha anche una correlazione con il concetto di gemelle cioè di 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 dividere le le cose in due le personalità la psiche anche la psiche in due ci sono tantissime cose dettagli interessanti che riguardano anche delle scelte che sembrano quasi casuali no? sembra però se ci fate caso il primo personaggio che viene ucciso viene colpito inizialmente vicino all'inguine e quindi c'è c'è anche c'è è pieno di significati legati proprio alla trama non sono significati artistici sono significati molto interessanti perché sono indizi psicologici del film e lui viene colpito dall'altra sorella gelosa vicino all'inguine come per castrarlo come per colpire le sue parti insomma la sua il suo sesso e poi viene colpito in bocca viene coltellato in bocca una scia bellissima per zittirlo per togliergli anche la parola l'intelletto quindi per annientarlo annientarlo completamente come individuo e poi sul finale ci sarà un'altra aggressione con un altro colpo anch'esso all'inguine quindi è una cosa che viene reiterata ciao Chris grazie Oblo grazie molto bello secondo me vedere un film dove dove ci sono tante scene wireistiche cioè io guardo da una finestra io guardo da un finestrino io guardo da un binocolo e io sono io grazie carenza di vitamine per il rinnovo due mesi grazie bentornato stiamo parlando di due sorelle occhio che è leggermente spoiler non sul finale ma sul contenuto diciamo la struttura poi dopo passo a un altro film di Brian De Palma che è Obsession c'è un particolare estetico di cui non so bene il valore nel senso non so perché sia così però lo noterete sicuramente che è il sangue il sangue è ancora il sangue rosso vernice come il sangue di Dario Argento che vedete nei film di Dario Argento devo dire che a me piace a me piace perché il sangue rosso vernice è meno realistico ma è molto teatrale è molto simbolico noi se noi il sangue lo rappresentiamo così noi se dobbiamo fare un disegno col sangue facciamo il sangue rosso non facciamo il sangue con il colore del sangue vero mentre oggi sono molto molto belli c'è un sangue molto scuro molto molto simile a quello quello che è il sangue reale lì il sangue è ancora rosso ed è molto teatrale molto simbolico secondo me e può rappresentare molte più cose il film è sicuramente un derivato di Marder alla mod che è questo film thriller semi-muto che lui girò che Brian De Palma girò nel 67 mi sembra altro elemento importantissimo di questo film forse è l'elemento più importante forse addirittura è l'elemento più importante a parte il fatto che è scritto molto bene è la musica non so se sentendo il trailer vi siete resi conto di quanto la musica si capisce che è una musica potente di qualità indovinate un po' la musica è di Bernard Herman compositore di della musica Deep Psycho non utile che io vi dica qual è la musica Deep Psycho la ricordate Bernard Herman è un grandissimo compositore per il cinema la sua musica ha un ruolo pazzesco perché la musica di Bernard Herman anche qua come in Psycho determina lo stato d'ansia mentre ci sono dei registi che lo stato d'ansia lo creano indipendentemente dalla musica questo tipo di colonna sonora il suo modo di fare la colonna sonora è una colonna sonora che se tu chiudi gli occhi ti agita comunque se tu ascolti questa musica questa musica ti dice in che stato d'animo devi essere guardando guardando questo questo film la musica come dice Andrina giustamente influisce tantissimo sulle emozioni motivo per cui altri registi scelgono invece di non farla questa cosa per cui non è obbligatorio possono essere anche i rumori possono essere tante cose a volte anche il silenzio può angosciare dipende sempre da come come metti insieme le cose io il film l'ho trovato veramente molto molto divertente da guardare perché Brian De Palma ha un modo di girare stra ricco ricco di inquadrature ricco di esperimenti ricco di chiamiamole citazioni ma di cose che lui ha imparato da Hitchcock ha imparato dai grandi del cinema e che in qualche maniera rielabora aggiungendo delle cose sue quindi per esempio l'omicidio visto dalla finestra spesso è stato associato a Hitchcock però qui stiamo parlando cioè non di un omicidio visto da una finestra e basta qui stiamo parlando di un omicidio visto da una finestra in split screen con i due punti di vista e a un certo punto partono due sequenze narrative contemporanee cioè De Palma ha aggiunto parecchio ha portato parecchio di suo all'interno di quello che è un un prendere un prendere da qualcun altro quindi per me lui è proprio rappresentativo di cosa significa imparare a copiare per rielaborare a modo proprio i film e la naturalezza con cui lui copia lo mette in cattiva luce ma secondo me è sbagliato l'atteggiamento della critica allora due parole su Margot Kidder che è un'attrice incredibile è veramente un'attrice incredibile molto espressiva in questo film fa le due sorelle quindi è molto le viene chiesto molto a livello di di sfumature di psicologiche di mettere in mostra dei caratteri diversi per me è fantastica tra l'altro veramente erano attori che ancora non avevano tanta esperienza lei sicuramente in questo film è fondamentale e altro personaggio fondamentale vabbè c'è anche Jennifer Salt molto brava poi non l'ho più rivista in realtà in altri film non l'ho vista spesso che fa la giornalista molto brava anche lei sembrano attori navigatissimi e poi c'è William Finlay che è questo attore che fa l'ex marito con questa fisicità particolare molto magro che c'è anche in Murder La Mod e in il fantasma del palcoscenico che è anche lui eccezionale inquietantissimo ci tenevo ci tenevo a dire due parole su di loro perché secondo me portano cioè oltre alla bravura di De Palma la musica ci metterei anche un po' le performance di questi tre attori ad a impreziosire il film adesso parliamo di Obsession complesso di colpa accade anche qua un evento drammatico incredibile incredibile allora ripeto perché poi magari anche il video va su YouTube allora Obsession ci sarà una prima parte che si può guardare dove parlerò degli accadimenti della prima parte del film che sono sicuramente sconvolgenti quindi uno potrebbe non volerli sapere quindi un po' di spoiler c'è e poi chiaramente parlerò in modo libero anche della parte finale perché ci sono delle cose che voglio dirvi a livello proprio di regia che sono troppo importanti e devo assolutamente spiegarvi perché vengono usate e lo devo fare tramite la trama e ciò che accade alla fine quindi con Obsession non lo so uscite non mi importa non mi importa decidete voi cosa fare però ecco sulla parte finale se non l'avete visto non ascoltate perché vi guardate piuttosto la recensione spoiler su youtube perché questa la caricherò non rovinatevi il finale perché il finale è una bomba questo è un film che ha scusate mi sono tolto gli appunti questo è un film che ha uno dei migliori twist finali che io abbia mai visto cioè proprio ero con il cuore proprio che pompava di brutto perché è un film estremamente dolce è un film dove c'è tantissimi dove ci sono tantissime emozioni è il film delle emozioni in assoluto ed è un film dove bisogna dare un grande merito a Cliff Robertson e adesso non riuscirò mai a Genevieve Beaujoux insomma questa attrice che non riesco a pronunciare vabbè c'è anche John Lightgo che conosce che qua nei trailer mi sa che non si vede è un attore abbastanza noto molto bravo anche lui è un film che deve tantissimo a una recitazione estremamente sofisticata soprattutto di Cliff Robertson che recita praticamente quasi sempre muto è sempre muto parla pochissimo è caratterizzato molto bene questo personaggio perché è un personaggio di poche parole poche parole sempre giuste sempre al momento giusto e quindi poi quando si esprime è più potente è più credibile e arriva molto di più allora film chiaramente che inizia con un evento drammatico lui è molto ricco ha una moglie una figlia sta facendo degli affari incredibili di edilizia cose del genere a un certo punto rapiscono la moglie e la figlia lui si affida alla polizia la polizia dice lascia fare a noi facciamo così metti mettiamo dei soldi finti con una riccia trasmittente e gli eliporti il piano non funzionerà questo è lo spoiler il piano non funzionerà la moglie e la figlia finiscono in un incidente in fuga i rapitori in fuga con appunto in ostaggio la moglie e la figlia fanno un incidente la macchina esplode bruciano tutti muoiono tutti lui perché si chiama senso di colpa in italiano perché perché lui ovviamente avrà il senso di colpa infinito di non aver dato semplicemente i soldi di non aver seguito le istruzioni dei rapitori cioè di dare di non chiamare la polizia e quindi lui sostiene insomma pensa di essere colpevole di questa cosa forse lo è in effetti insomma sono situazioni molto difficili a giudicare questo è molto bello del film perché cazzo un film che ti mette di fronte a una roba del genere già dopo poco dopo giusto il tempo capito di farti affezionare di farti capire chi sono che sono felici che tutto già mette lo spettatore davanti a questa cosa cioè quanti cazzo di film trovate che vi fanno vi mettono vi dicono voi cosa avreste fatto e questo è questa è una parte bella del cinema e di questo film passano un sacco di anni e lui era già un uomo ombroso e silenzioso figuratevi com'è diventato dopo che gli sono morte la moglie e la figlia la figlia di pochi anni insomma 8, 9, 10 anni una roba del genere come si sente si sente uno schifo e va avanti a un certo punto inizia a dare corda a questo questo socio che è il suo socio di sempre che c'era anche all'epoca dell'incidente si sente di dargli corda a dire ok dai vengo con te in Italia ti raggiungo c'è un affare che devono fare di edilizia sempre ti raggiungo e proviamo provo un po' a non pensare a niente arriva in Italia e va nella chiesa dove ha conosciuto a Firenze nella chiesa dove ha conosciuto la moglie tanti anni fa e come se andasse a visitare la sua tomba praticamente nel luogo dove si sono incontrati e l'incontra una ragazza giovane molto più giovane di lui che assomiglia tantissimo alla sua ex moglie quindi da lì gli parte l'innamoramento o comunque sente che deve continuare a scrivere a questa a questa scrivere scusate a contattare a parlare con questa ragazza finché alla fine non decidono di uscire insieme e e si innamorano e c'è tutto insomma ne conseguirà tutto il resto ci sarà poi la volontà di sposarsi e di ripartire quasi come insomma per provare a mettere una pietra sopra su un passato che a sto punto il protagonista vuole dimenticare ora ora io vado direttamente ecco le ultime due cose che vi posso dire non spoiler poi devo entrare comunque nella parte spoiler è che questo è un film stranamente come lo vedrete non vi sembrerà un film low budget veramente fatto con pochissimo non mi ricordo se era un milione due milioni una roba del genere che è veramente poco per un film d'ora in poi però la recensione è spoiler The Palma ha scritto Obsession dopo avervi insieme a un suo collaboratore dopo aver visto Vertigo e qua già c'è uno spoiler per chi ha visto Vertigo e per chi riesce a fare uno più uno velocemente il film alla fine ha delle grosse similitudini con Vertigo perché c'è un un personaggio che che finge di essere un'altra persona per confondere per manipolare il protagonista ovviamente adesso io penso e spero di rivolgermi solo a chi l'ha visto quindi è inutile che glielo spieghi però lo farò lo farò per chi comunque vuole sapere com'è andata a finire anche senza vedere il film fondamentalmente sappiamo che il il socio aveva organizzato il rapimento per mettere sotto pressione il insomma mettere in una condizione di difficoltà economica il suo socio e fotterlo fondamentalmente alla fine non vanno proprio come volevano le cose e si ritrova questo socio a a dover praticamente tenere la figlia non morta in realtà perché more solo la moglie e a mantenerla da qualche altra parte appunto in Italia a insaputa del del suo socio quindi il suo socio quindi Michael diciamo il protagonista pensa che siano morte in realtà è morta solo la moglie e la figlia cresce in un altro paese odiando il padre pensando che il padre non ha voluto dare questi soldi perché non gli vuole bene perché è uno stronzo perché per lui i soldi sono più importanti quindi inizia a odiarlo insieme al al socio bastardo robert e scogitano un piano per insomma togliergli tutti i soldi insieme e quindi lei si finge una una persona sconosciuta che ovviamente assomiglia alla moglie alla moglie di Michael perché è la figlia e questo è molto molto interessante soprattutto quando scopri retroscena di questa storia loro si vogliono bene no? amoreggiano lei finge di essere innamorata di quello che poi in realtà è suo padre lei sa che lui è suo padre però lo vuole far soffrire lo vuole rovinare e quindi accetta di essere la sua fidanzata chiaramente non non consumano non fanno niente perché lei dice di essere molto devota alla chiesa e quindi vuole fare le cose come fanno come si fanno e e questa è l'escamotage in realtà la cosa la cosa bella di questo film è che in realtà è proprio retroscena che il film è molto più duro di così nel film originale nella testa di Brian De Palma lui e sua figlia hanno un rapporto sessuale e c'è anche una scena che poi viene è stata girata in un altro modo per nascondere tutto questo che è una scena che è stata trasformata in onirica cioè lui vede lui ha letto che parla con lei ed è tutta un po' sfocata è tutta un po' così perché ovviamente non potevano uscire con un film che era già così strambo in più con dei rapporti incestuosi sarebbe stata la fine commerciale del film l'avrebbero assalito quindi lui ha un rapporto sessuale con la sua con sua figlia che lo vuole fregare solo nei suoi sogni cioè lui se lo sogna soltanto pensate un po' che scamotage in realtà nell'idea originale del film c'era proprio quella che lei era talmente entrisa d'odio e il suo piano era più importante di qualsiasi cosa che o comunque non so per quale ragione per quale distorta ragione psicologica comunque loro nell'idea originale avrebbero comunque fatto sesso ciao Charlie quindi è un film molto forte nella sua idea originale e lo rimane ancora un pochino perché con l'escamotage del sogno Brian De Palma ammicca questa cosa e qui mi ricorda tantissimo dei film che sono venuti per esempio un film che è venuto dopo è con questo tema identico quasi identico è Old Boy Old Boy è praticamente la stessa cosa la vendetta tramite anche se viene scatenata da una terza persona però è molto simile quindi questo è un punto importante per me per sottolineare quanto spesso dico riguardo alla copia la copia di un film la copia di un'idea la copia di una scena in favore di un'evoluzione una rimanipolazione della storia una l'opportunità di dire con la propria voce raccontare con la propria voce con le proprie emozioni la propria cultura la propria contemporaneità una storia anche se già fatta secondo me non è solo giusto è la natura del cinema è proprio la sua il suo modo di 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 sopravvivere quindi è sbagliato concentrarsi su ciò che è la copia ma è giusto andare a vedere dove c'è stata questa rielaborazione quindi All Boy per esempio è un film che è ispirato palesemente a questo anche se qua appunto il rapporto incestuoso è stato camuffato questa è una parte sicuramente molto bella del film anche in questo film ci sono gli split screen ci sono scusate ci sono gli split screen dove lui fa vedere il personaggio in primo piano e sfrutta il primo piano per mostrare le emozioni quindi non è costretto a nasconderlo facendo un controcampo ma fa vedere le emozioni del di Michael e poi fa vedere il socio che si esprime a livello corporeo perché è in un piano americano quindi si vede gambe busto e si muove e al telefono sta organizzando intanto parla con l'amico e quindi vediamo è una scelta sua quindi porta avanti queste cose ma ci sono due cose meravigliose secondo me nel finale del film poi ci sono tantissime riprese stupende è un film che parte e che è molto lento è un film di emozioni è un film l'ho detto all'inizio veramente di una dolcezza incredibile dove gli attori esprimono tantissime tantissime emozioni tantissimo dolore all'inizio e poi gioia perché risboccia l'amore lui si innamora di sua figlia in realtà però lui è contento comunque di poter ormai quella cosa lì è andata quindi è veramente un sacrilegio comunque vivere nella sofferenza la vita è un po' forse qualcosa un messaggio che vuol dire che noi ci diciamo quando vediamo un personaggio del genere pensare che si debba astruggere per il resto della sua vita penso che molti di noi non lo pensino quindi è un film che ha un ritmo di un certo tipo poi inizia inizia a diventare investigativo più thriller dopo appunto un inizio con il rapimento molto action molto violento ha veramente una quantità di generi al suo interno enorme e poi sul finale noi insomma lui ha una una sorta di discussione poi si insomma si molla con la con la con la pseudo fidanzata e c'è una c'è un cambio di carattere suo di lei lei vuol portare avanti il suo il suo piano e lo manipola allora ricrea il rapimento ricrea in casa il rapimento cioè mette delle cose lui ormai ha perso la brocca no? ha perso la brocca confonde il passato col presente rimette un un annuncio di rapimento e lui porta vuole portare i soldi alla ragazza no? glieli vuole portare non sa che è lei chiaramente vuole portare i soldi ai rapitori perché pensa che questa ennesima persona sia stata rapita e gli sembra quasi una maledizione lui deve portare i soldi veri stavolta per avere la felicità perché deve dimostrare che lui in realtà ci teneva e che non ci aveva pensato alla fine il suo compare gli ridà comunque dei soldi falsi dei pezzi di carta e lui non riesce a portare quindi la ragazza va via parte si allontana e lui rimane solo scopre che scopre che era tutto un piano scopre che era tutto un piano ma non sa che non sa ancora che lei è sua figlia pensa che sia una truffatrice che ha cercato di allora perde una pistola e corre all'aeroporto a cercare di intercettarla probabilmente per ucciderla ed è qua che vediamo delle cose interessantissime allora intanto c'è un flashback intanto lei cambia a un certo punto diventa cattiva diventa rancorosa scopriamo che lei aveva aveva fatto tutto questo quindi i suoi abiti cambiano ed inizia a essere vestita di nero c'ha una maglietta nera dei pantaloni neri e ricorda tantissimo il gioco fatto in Psycho dove la segretaria prima di rubare i soldi ha un rapporto amoroso con il suo fidanzato in un motel e ha un reggiseno bianco dopo che ha rubato i soldi incontra di nuovo il fidanzato hanno di nuovo un rapporto lei si sta rivestendo questa volta il suo reggiseno è nero quello è un metodo che Ichiko ha usato per dire prima la sua anima era pura non aveva intenzione di fare niente ora è una ladra ha rubato al suo capo sta scappando con i soldi ecco secondo me c'è anche qua questo gioco quindi ancora che prendi da Ichiko però è giusto lo fai non si nota quindi va bene è efficace inconscio nel finale in cui scopriamo tutti questi alterini scopriamo anche come è andata veramente la bambina non era morta la bambina viene trascinata da uno dei rapitori e portata in un aeroporto all'aeroporto incontra il socio che aveva organizzato tutta sta baracconata per mettere in difficoltà Michael il protagonista stupenda la scelta a un certo punto lei viene tirata bambina viene tirata e la sequenza è alternata con lei che viene tirata dal socio al giorno d'oggi quindi lei è adulta le sta dicendo vai via il nostro piano per fregare il tuo padre non ha funzionato vattene e la tira sempre all'aeroporto e Brian De Palma alterna le due sequenze un po' e un po' e noi vediamo il rapitore trasformarsi nel socio che la tira continua ad alternarsi poi a un certo punto non capiamo più niente e vediamo che lei quando è bambina è interpretata dalla stessa attrice che fa la madre cioè da lei stessa quindi l'inquadratura sale dall'alto e la fa sembrare piccola la fa sembrare una bambina piccola passa e questo è l'escamotage geniale noi non ci chiederemo neanche perché questa bambina alla faccia di un'adulta perché è talmente brava l'attrice ed è talmente orchestrata bene questa scena che mentre la telecamera si alza e noi la vediamo sembra veramente rimpicciolirsi sembra veramente tornare piccolina e e chiedere cosa succede dove mi stai portando cosa sta succedendo e questa scena è è fantastica perché ti spiega tutto ti spiega tutto quello che è successo com'è andata quali erano le emozioni della bambina quali sono le emozioni attuali della figlia adulta che è arrabbiata ma è innamorata ma non è innamorata di lui come appunto come come fidanzata innamorata di lui come figlia ha scoperto che il suo padre non è cattivo che il suo padre le voleva bene e quindi è veramente un momento estremamente emozionante dove pam 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 vengono buttate di un botto di emozioni poi scena maestosa lei tenta di tagliarsi le vene ci staglia le vene fermano l'aereo non partono la mettono la fasciano la mettono sotto una sedia a rotella e la portano fuori nell'aeroporto per portarla in ospedale arriva lui arriva Michael con la pistola sotto la giacca nascosta con i soldi i soldi veri questa volta perché le ha riavuti i suoi soldi va verso di lei sembra che la voglia la voglia uccidere c'è una carica pazzesca lei lo vede si alza dalla carrozzina inizia a correre in rallenti una cosa meravigliosa lui non le spara la abbraccia i soldi volano per aria perché la valigetta cade si apre volano tutti i soldi per aria e lì i soldi che volano per aria sono simbolicamente i fottuti soldi che avrebbe dovuto dare sono quei soldi lì che finalmente vengono sacrificati finalmente quel sacrificio di privarsi di quei soldi boom puff i soldi volano da tutte le parti eccolo i soldi da sacrificare per riavere sua figlia quanto meno allora lì la abbraccia lui la lui la chiama papà e lì capisce capisce che è sua figlia ed è stupendo e c'è questo momento in cui lei corre e c'è una genialata registica pazzesca lei corre rallenti lui corre rallenti si abbracciano che cazzo fai lì non ti fermi con la telecamera bam la telecamera inizia a girare intorno perché quell'emozione lì quell'emozione di quella corsa non si può interrompere quel movimento non si può interrompere allora la telecamera inizia a girare intorno ai due che si abbracciano la guarda sorride freeze frame l'amore assoluto immortalato in una fotografia fine il film è finito stupendo una cosa eccezionale una cosa eccezionale ragazzi ovviamente il riferimento a vertigo è legato allo scambio di persona l'imbroglio il tranello e tutto il resto l'impazzimento insomma la follia a cui arriva appunto Michael il protagonista per me è un film vi giuro cioè mi sono emozionato a raccontarvelo per quanto è tutto perfetto tutto perfetto è un film del 76 l'anno in cui sono nato io cioè voi pensate quanto cazzo è vecchio e quanto cazzo funziona allora io vi dico questo cercate qualcosa di bello non sapete siete lì che col telecomando bam 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 continuate a andare andare guardatevi questo cazzo di film e fatevi travolgere perché è un film emozionante ovviamente chi l'ha visto lo può rivedere guardando le cose che vi ho detto non sono le uniche ci sono tantissime cose però le due scene clou importanti sono quando lei viene trascinata sia da piccola che da grande per essere portata via dal padre in entrambe le scene viene portata via dal padre e aspetta un attimo chissà è quasi finita grazie Mario grazie Vitto ho detto grazie Vitto è la scena è la scena a me piace tantissimo questa scena di rallenty e il fatto che lui non abbia voluto stopparla ma ci ha girato intorno e mi piace tantissimo come si accorge che è sua figlia ovviamente si accorge perché lei lo chiama papà però poi lui la sua espressione il sorriso che fa dentro quel sorriso c'è tutto tutto quello che volete sapere no tutta la per esempio quanti film poi vi fanno vedere e vissero felici contenti vi fanno vedere cosa fanno vi fanno vedere loro che vanno al mare che cazzo ne so no non c'è bisogno quel sorriso lì c'è tutto c'è il perdono c'è l'amore c'è c'è il futuro in quel sorriso quindi è veramente meravigliosa quella scena lì quella e anche quell'altra del sempre nell'aeroporto ultime due cose allora il cofanetto è eccezionale perché dentro ha anche un mega documentario su Brian De Palma che come appunto ci ricordava Mirko è presente in entrambi i film come Marder alla mod ma è veramente gustoso lunghissimo e c'è tutto c'è tutto il cinema di De Palma raccontato da De Palma perché viene intervistato e Marder alla mod è un film interessantissimo dove già ci sono delle idee pazzesche e vediamo l'evoluzione passiamo ora a parlare di due cortometraggi che ci sono dentro uno è Watton's Wake ecco molto importante questa con l'aeroplano vedete l'aeroplano in miniatura e poi lo si vede volare qua vedete fa un po' di collage di immagini di repertorio un po' di un po' robe fatte da lui c'è tanta lavorazione dell'immagine eccetera allora questo vuole essere un film sperimentale diciamo dove lui dura poco dura 20 durano tutte e due 25 minuti qualcosa del genere questo è un film lo definirei sulla creazione il classico film alla Pinocchio tipo io mi creo un mio personaggio alla Metropolis mi creo un mio umanoide un mio figlio un mio compagno di vita o di come Frankenstein anche no cioè partendo da un geppetto dal legno e qualcun altro dai cadaveri qua è una storia simile non vi sto a dire che cos'è però diciamo la storia è quella in questa storia lui fa tanti esperimenti tantissimi giochi si si presenta quasi come se fosse un film muto ma in realtà ci sono tanti suoni che sono a sostituzione delle voci e rumori suoni musiche però appunto sembra un film muto che parla con dei suoni onomatopeici quasi la cosa interessante è che sembra quasi una dichiarazione di quelle che sono le cose che lo ispirano e quindi noi vediamo all'interno King Kong per esempio questo personaggio a un certo punto prende degli aerei con le mani e li distrugge fa delle robe ci sono delle esplosioni c'è un personaggio molto simile a Dottor Jekyll ci sono riferimenti al settimo sigillo scacchi cose del genere e soprattutto c'è un riferimento al fantasma dell'opera fantasma dell'opera che chiaramente ispira il film il fantasma del palcoscenico che poi lui realizzerà tanti anni dopo quindi è interessante come il fantasma dell'opera lo abbia influenzato fino a poi comunque qualcosa che è rimasto dentro fino a fare un film ispirato a quello quindi è sicuramente un film molto confuso forse dove c'è anche la volontà di essere così non mi è chiaro sicuramente perché è difficile scoprirlo col seno di poi però è un film confuso è anche irriverente cioè molto una cosa giovanile esattamente quello che è proprio una cosa giovanile quindi un esperimento però è un esperimento che già mostra un sacco di di lavoro creatività voglia di fare voglia di spaccare e appunto tantissimi riferimenti quindi già la capacità di inserire il cinema nel cinema quindi questo è l'aspetto più interessante perché vedere questo cortometraggio proprio per questo perché se si vuole visto che secondo me De Palma è veramente un regista che è da studiare soprattutto per chi vuole fare il regista è da studiare perché puoi imparare da lui e puoi imparare da lui da chi imparare e come inserire il cinema nel cinema quindi secondo me questo è un motivo per cui guardare questo cortometraggio e un altro motivo per cui guardare il cortometraggio cioè un altro cortometraggio che è da guardare per lo stesso motivo vediamo se trovo due immagini eccolo qua The Responsive Eye è un documentario è un documentario su una mostra d'arte quindi lui qua ha la responsabilità solo di fare un documentario è una mostra d'arte sull'arte che che si basa sugli effetti ottici quindi lo studio è un tipo di arte particolare perché è quasi un'arte tecnologica cioè che il compito dell'artista è anche quello di andare a sperimentare nuove beh il tromploi è sicuramente un effetto ottico e quindi rientra ma qua adesso magari vediamo qualche immagine questi sono gli ospiti della mostra che appunto lui ha anche intervistato ed è molto interessante perché sono veramente uno spaccato della società di quell'epoca perché ci sono dei signori ricchi ma anche persone si vede anche persone non sicuramente conti politici o i preditori ci sono anche persone che passano amanti dell'arte così ci sono commenti di tutti i livelli culturali quindi è interessante sono gli effetti ottici proprio quelli che noi oggi conosciamo con grande con grande popolarità che sono conosciuti da tutti quindi forme geometriche che poi viste da una certa distanza o viste accostate vicine creano delle sensazioni perché penso che sia rilevante all'interno della cinematografia di di De Palma perché secondo me è questa cosa lui lo ha influenzato tantissimo cioè la ricerca dell'effetto ottico lo stesso lo stesso split screen è comunque un qualcosa che si avvicina a questo pensiero qua cioè nel nel in questa mostra il ruolo dell'osservatore è importante perché perché l'arte degli effetti ottici scusate sono finito in un in un posto tutto sfocato ok l'arte degli effetti ottici vive dentro cioè si esprime dentro la persona a differenza di un quadro di della Mona Lisa o di qualsiasi altro pittore dove la bellezza sta nella nella superficie in cui hai dipinto l'effetto ottico è soggettivo e si sviluppa all'interno della retina e all'interno del nostro cervello quindi è interessante come l'arte quest'arte qua abbia concettualmente come l'idea di io mi proietto dentro le persone e quindi questo discorso del ruolo dello spettatore c'è anche nei film di De Palma ovviamente in modo diverso però appunto interessante infatti poi mi ero annotato che secondo me appunto io lo vedo come uno studioso dell'immagine e dell'illusione De Palma e quindi secondo me lui ci ha sguazzato dentro questa mostra cioè l'ha fatta ha fatto il documentario probabilmente perché l'adorava lo incuriosiva tanto sono interessanti anche le interviste perché ci sono dei commenti assurdi ogni tanto comunque questo è questo è tutto vi faccio rivedere faccio rivedere l'edizione questa è l'edizione io anche la prima devo dire che ringrazio Midnight per avermi mandato i film perché veramente mi sta facendo innamorare re-innamorare di De Palma più di prima perché comunque doverne parlare poi mi porta a doverlo approfondire e approfondirlo è la parte veramente goduriosa di questo di questo regista e quindi per me è il top questa edizione è fantastica per me ma per il valore assurdo di questi film sono dei film incredibili di